Buonasera dal comunale di Cagli, il tempo è cupo e minaccia pioggia, i giocatori sono infredoliti nelle loro gilezze piristille, le pipe rusticate conservano i tabacchi umidi ma ancora praticabili, i giocatori scaldano le dita rotteando i fiammiferi e gli occhi sono puntati sui fornelli ancora spenti. Dirige l'incontro il signor Cereali di Valdobiadene che con calma serafica si avvia a cento campo per dare il fischio di avvio della partita, i giocatori analizzano il tabacco passandolo velocemente da un palmo all'altro e lo strapazzano senza pietà riducendolo ai minimi termini. Tutti pronti per darsi sfida a ognuno nella propria posizione? 3, 2, 1, Cereali dall'avvio e tutti danno fuoco ai fornelli! Il campo è denso di fumo, la partenza è andata liscia non senza il primo caduto sul secondo fiammifero, scatta subito in avanti Cicognolo che dribbla da Pincin che passa oretice, subito all'attacco Marcello Guerra con un intravento spinto intercetta la braccia con un mezzo giro litigino. Ma parte il cross da fondo campo dallo pin a mocia che abilmente recupera il fumo con rapide risbuffate e le sue solite dita sul fornello, il pubblico entusiasta sugli spazi segue con attenzione allo svolgersi dell'azione. Attenzione Luzzi ti interrompo da Pisa, il Pisa pareggiato all'ottavo minuto di tocco con Cicconi, il risultato dunque 1-1 a Tela Vista. Recupera la braccia Econia con abile colpo di Pignino, mentre sulla fascia destra vediamo Corsellini che è lento ma deciso si avvia in zona d'attacco con il suo preciso possesso di Pipa. Corse... 40 paesi muore il secondo tempo, i giocatori sono stanchi, rimesso il gioco di Zampieri che allunga Cosmo, entra Gava che infastidisce con piccole aspirate dal buchino, ma Cosmo non si fa in timorina e intercetta ancora la braccia con il suo solito sguardo da tigre, con il pigirino tra il pallice medio rimuove con precisione la ceneri in superficie, ma ecco che si vanno avanti Chris che è un albore e ruscalla allungando i tempi fino all'ultimo granello di tabacco, ma Cosmo trova il suo ultimo filamento, Cosmo trova tempo, trova tempo in braccia, Cosmo procede, lenti piri, un filo di fumo, Cosmo, 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 GOOOOOOOL! Andiamo attrevisto, andiamo attrevisto, andiamo attrevisto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.